3! Siamo passato a 3 perché rispetto agli altri operatori offriva il doppio della ricarica e poi era senza scatto alla risposta. 3 mi fa telefonare di più perché pago meno. A me la rete 3 prende ovunque e navigo anche velocemente. Quest'estate tieni il tuo numero e passa la ricaricabile 3. Hai la miglior tariffa 3 e le tue ricariche per un anno raddoppiano. Ma allora con questa offerta posso parlare del doppio? Tu parli già del doppio. Ma il doppio di che? Il doppio di troppo. 3! 3! 3! 3! 4!